hallo liebe freunde, heute filmo ich auf deutsch, wir sind in Szentil und wir fahren nach Wien, es ist es, ciao a tutti ragazzi ragazze sto andando verso Vienna e mi sono fermata a Szentil, sta nevicando da paura ragazzi dopo un viaggio pazzesco siamo finalmente arrivate a Vienna, il traffico era pazzesco e adesso corriamo al Volsalon endlich, wir sind in Wien angekommen und jetzt fahren wir zu Volsalon eccoci arrivati al Volsalon di Szentil, Volsalon Sunshine Loop, jetzt sind wir bei Volsalon Sunshine Loop von Szentil poi hier Volsalon und jetzt gehen wir hinein und schauen die Garten von Szentil e adesso andiamo dentro e guardiamo i filati di Solchitsa e li spalpucciamo guardate già da fuori che meraviglia oh schau mal wie schön oh was ist hier? Biscotte Jarns, mhm, sehr schön und dann Hedgehog Fibers, super, Ancomontrez, oh wie viel wunderbare Garnet, oh guardate che meraviglia, che meraviglia, Ancomontrez, cose magnifiche ragazze qua è la sagra dei colori und schau mal, schau mal, was ist das? hmmm, ein Tee im Augarten und scontrosa grazia auf Englisch, e cosa c'è qui? Ein Tee im Augarten e scontrosa grazia, il mio libro, sono contentissima! und dann gerne auch hier, Lang, sehr schön und oh, eine Überraschung, Bora scura, super! e guardate quanti filati ci sono qua, avete visto anche Bora scura, che meraviglia! und wie viele Bilder, e quanti bellissimi quadri! und Sara und Sonchitsa, Sara e Sonchitsa stanno prendendo il tè, adesso io le raggiungo! Siamo a mangiare in un posto bellissimo, molto 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 viennese, come si chiama Sara? Plüffe, credo? Plücch, 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 plücch. Comunque un posto bellissimo, e abbiamo ordinato, adesso vedremo cosa mangeremo! Wir haben bestellt und jetzt sehen wir was wir essen! Sunchizza, was hast du bestellt? Kalbsleber, geröstet. Super! Sunchizza, ordinato del fegato arosso con le patate. Ich habe gulasch, super gross, natürlich. Für mich, io ho un gulasch grande. Und Sara, was hast du? Geschmorte Schweinsback. Molto bene, adesso diciamolo in italiano. Guanciotte di maiale stufate. Ragazzi, buon appetito! Guten Appetit! Noi, in realtà, dovremmo andare a letto. Ma abbiamo il letto occupato da... Cos'è che c'è? Cos'è? Questo è il nostro letto. Tu devi andare via. Hai capito? Devi andare via. Devi andare via. Eccolo, va via, forse. No, mi sa che dovremmo usare le maniere forti. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Mmm, sehr schön. Ragazzi, siamo qui. Il workshop è già iniziato. E io adesso vado a incominciare a filmare le partecipanti. Il workshop è iniziato. È iniziato. È iniziato. iniziato. È iniziato. È iniziato. 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 Adesso. Da vado a controllare quello che hanno fatto le ragazze, quello che hanno lavorato. Mmm, sì. io sono molto bella è molto kattiva Sara stricte soccan molto bene Sara fa la calza e suonchizza sei già finita fast molto bene molto bravo super e qui la farba la farba uschi ma tu dovresti anche con il gelo ma è ancora il gelo super mi piace e qui anche stricte man e qui molto bene e abbiamo il spitzmuster già bella bravo sei finita sei finita di di qui molto bene e qui anche qui anche qui anche qui adesso vediamo e qui anche qui e qui e qui e qui è avete visto che bravi tutte bravissime io sono molto orgogliosa e qui sono molto orgogliosa perfetto super ma guardate che meraviglia questo chalet come sta diventando bellissimo il workshop è finito e sono andate via praticamente tutte quante è stato bellissimo la giornata è stata meravigliosa io sono contentissima di essere stata qui e insomma io spero di ritornarci presto il workshop è finito e adesso io faccio un giretto per Vienna che è sempre bellissima liebe WienerInnen unser workshop è finito ma oggi è stato un bel giorno è stato un bel giorno grazie mille alle sono felice sono felice un workshop in Wien è stato un soggetto un soggetto un soggetto un soggetto un soggetto un soggetto che è in cui non è stato fissile ci sono un soggetto e ci sono le cose ci sono sempre le cose ma le cose hanno si adesso siamo in l'estero Readiness abbiamo già mangiato tutto però vi volevo far vedere il dessert Lebekuchen tiramisù! Un tiramisù con il Lebekuchen! Non dico altro ragazze!